1.000 lire al chilo, oggigiorno nei supermercati, lo sappiamo tutti, quello che si compra. Quindi andare mirati in posti specializzati, in mangimi specializzati, come riconoscerli? Come riconoscerli? Dalle caratteristiche, poi consultare anche il veterinario, puoi vedere anche l'effetto. Ma magari non tutti i veterinari sono preparati in materia, diciamolo perché è un dato di fatto. Io personalmente ho avuto diretta esperienza. Ecco, anche il discorso del veterinario è un discorso anche lì della qualità, quindi cercare un veterinario che sia propenso a dare le indicazioni giuste, quindi girarne magari più di uno prima di dire bene, perché il veterinario è un po' come il medico di famiglia, non è che se uno ha un medico di famiglia lo deve tenere tutta la vita, se si trova bene con quel dottore, vada bene. Il costo di questi cani? È il cane più costoso e più acquistato al mondo, oramai da 80 anni, quindi è un cane molto costoso. Ci dica un po', ci parli di cifre per i nostri rispettatori? Ma partiamo da circa 2 milioni di un cucciolo fino ai 400-500 milioni di un campione mondiale, il cane è più costoso che c'è, quindi bisogna stare attenti ai cani a buon mercato soprattutto, perché sa, ai regali… Si deve sempre diffidare. Eh beh, anche perché si sa, anche perché richiede grande impegno allevare, non è come tutti pensano che uno prende, va… Giocattolo. No, no, bisogna richiedere grande impegno e poi non solo, l'allevatore deve poter dare assistenza al cliente. Questi cani hanno bisogno di addestramento quindi, addestramento personale oppure affidarsi a un bravo addestratore? Ma più che bisogno dell'addestratore hanno bisogno di un buon padrone, quindi di essere eseguiti nella crescita, di essere ben educati. L'educazione non si dà portando il cane a scuola a due mesi, si dà durante tutta la vita, quindi hanno bisogno di una consulenza. Giorno per giorno. Giorno per giorno, insomma, di stare a contatto con persone che sappiano consigliare. Per questo noi quando vendiamo un cucciolo lo vendiamo con assistenza, ne eseguiamo la crescita, l'alimentazione, l'educazione, anche per tutta la vita. Non è che uno in qualsiasi momento, 24 ore al giorno, può telefonare e domandare, ma mi è successa questa situazione, mi sono trovato in difficoltà, che cosa devo fare? Voi date... Esattamente. L'importante è l'allevatore, per questo raccomando a tutti di rivolgersi per qualsiasi razza all'ente nazionale della cinofilia italiana, al gruppo cinofilo di zona, domandare l'elenco degli allevatori, che quantomeno ci possa essere una rivalza, sui cuccioli malati, sui cuccioli malvenduti, insomma, costeranno un po' di più, ma un motivo ci sarà pure. Certo, grazie. Prego. 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 Grazie a tutti. 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 Ciao. Yeah. Yeah. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Yeah. Everybody's talking at me. Everybody's talking at me. I'm going where the sun is. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.